Natura? E di che natura è questa natura? Beh, di natura... insomma noi abbiamo un gregge di pecore, lei ci dice quante ne vuole e... Pecore? Beh, se non le vanno le... le pecore devono delle meravigliose toilette. Toalette e... toilette di che genere, i francesi? Ma si abiti da sera, da giorno, da pranzo, che genere di abiti? No, toilette da bagno. Gabinetti? Non avevo il coraggio di dirtelo, ma stiamo così pochi insieme. E quando c'è un estraneo con noi mi sembra che ci rubi momenti preziosi. Vedi, quando ho incontrato te, qualcosa mi diceva che ti saresti fermato nella mia vita. Forse per questo mi sono difesa, perché sentivo che mi sarei abbandonata con tutta me stessa, che sarei rimasta legata a te, che di me non sarebbe rimasto più nulla. Ed ora che è così, non ho più paura, non mi ribello più, sono felice. Grazie. Grazie.